Iniziamo l'incontro. Benvenuti e benvenute. Sono Federico Pederocchi, sono un giornalista di scienza e ho il compito di moderare questo incontro. Al centro e all'inizio dell'incontro che poi dopo ovviamente andrà sui temi che riguardano essenzialmente tutto ciò che concerne questo grande prodotto italiano che è il formaggio grana ed intorni ma anche altri prodotti come vedrete perché per esempio il consorzio Granarolo fa anche altri prodotti. Inizieremo però ragionando sui mutamenti nella percezione da parte del pubblico e quindi nel comportamento d'acquisto del pubblico che è un altro dei grandi elementi di trasformazione di quest'epoca che stiamo vivendo, di questi anni nei quali a volte e come con problemi altri invece per altri aspetti sono anni di grande fascino insomma perché tantissime cose stanno cambiando e una non solo nel campo del food, del cibo ma in molti altri settori una delle grandi trasformazioni in corso è quella che riguarda il come acquistiamo merci, come giudichiamo conveniente o non conveniente e poi nel caso del cibo salubre o non salubre l'acquisto dei prodotti. Vi dico chi è qua presente, Miriam Finocchiaro che del gruppo Granarolo è responsabile comunicazione e anche responsabilità sociale d'impresa. Abbiamo Nicola Cesare Baldrighi che è presidente del Consorzio Tutela Grana Padano. Daniele Fornari è qua e sarà lui a iniziare, dirige il REM Lab che è un centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, un centro che lavora appunto sui temi che riguardano i comportamenti d'acquisto e poi Nicola Bertinelli che è presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Allora a lei Fornari darci una prima relazione appunto su questi aspetti del comportamento d'acquisto. Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Il mio compito è un po' di introdurre il dibattito che ci sarà successivamente sulla relazione che esiste sempre di più tra evoluzione dei modelli di consumo e comportamenti di mercato delle imprese. Negli ultimi dieci anni in coincidenza con la grave situazione di crisi economica che abbiamo attraversato che ha rappresentato anche come vedremo fra poco sul piano dei comportamenti dei consumatori una fase di grande discontinuità rispetto al passato, noi abbiamo registrato un profondo cambiamento dei comportamenti di consumo ed acquisto delle famiglie italiane. In particolare anche nell'ambito dell'analisi economica, quando si cerca di capire quali sono i fattori che tendono a condizionare l'evoluzione di questi comportamenti, si fa riferimento a una serie di variabili, in particolare nell'analisi tipicamente economica dei consumi si fa riferimento a tre variabili, il reddito dei consumatori, la ricchezza dei consumatori e le aspettative dei consumatori, nel senso che normalmente quando le aspettative sul futuro dei consumatori sono negative, i consumatori tendono a rinviare gli acquisti. In realtà, come vedremo, negli ultimi anni le dinamiche dei consumi sono state condizionate da fattori di tipo sociale e di tipo più strutturale che vanno al di là della situazione economica che abbiamo attraversato. Un primo fattore è il cambiamento demografico, come potete vedere, da un po' di anni a questa parte la demografia del nostro paese sta cambiando significativamente, la dimensione delle famiglie si è ridotta, è cresciuto il peso delle famiglie monofamiliari, pari ormai al 30% delle famiglie italiane, soprattutto è cresciuto il tasso di invecchiamento delle famiglie. Tutti questi indicatori hanno pesato sull'andamento delle famiglie, perché voi capite che laddove la dimensione media delle famiglie si è ridotta le bocche da sfamare sono di meno, a maggior ragione quando le famiglie sono appunto mononucleari, ma soprattutto non vi è dubbio che una popolazione anziana ha una propensione ai consumi e agli acquisti molto più ridotta rispetto alla popolazione più giovane. Quindi questo è un primo dato strutturale che va tenuto presente quando noi cerchiamo di capire la dinamica soprattutto quantitativa dei consumi. Voglio sottolineare che certamente la crisi economica ha pesato, non tanto come vedremo sui consumi alimentari, ma certamente stanno pesando altri fattori strutturali che penalizzeranno la dinamica quantitativa dei consumi nei prossimi anni indipendentemente dalla situazione della congiuntura economica. Tenendo presente che quando parliamo di popolazione ormai oggi nel nostro paese parliamo di un mosaico generazionale, attualmente sono presenti cinque generazioni diverse ed è interessante vedere come gli stili di consumo e i comportamenti d'acquisto di queste cinque generazioni diverse sono molto differenti tra di loro. Tra l'altro nel tempo il ciclo di vita delle generazioni si è ridotto drasticamente. Vi porto la mia esperienza personale da docente universitario perché insomma dieci anni fa gli studenti che io avevo in classe erano molto simili agli studenti di dieci anni prima. Bene o male avevano gli stessi comportamenti in classe, si vestivano bene o male allo stesso modo, avevano un rapporto con i docenti di un certo tipo. Bene se io vado a vedere gli studenti di oggi sono completamente diversi dagli studenti di tre anni fa, non di dieci anni fa. Se qualcuno di voi ha dei figli che hanno una distanza di età di tre o quattro anni probabilmente riesce a capire quello che voglio dire. Tre anni fa in classe prendevano tutti gli appunti diciamo con la Biro e con il cartaceo, oggi quasi tutti hanno un computer. Questo per farvi capire che cosa significa questo e come tutto questo finisce poi anche per impattare sui comportamenti di consumo. In particolare oggi i giovani per esempio vanno molto di meno alla messa universitaria, sono molto più attenti diciamo ai consumi di tipo salutistico e per esempio voi li trovate in giro per l'università che si consumano le loro insalate, il loro cibo che portano direttamente da casa. Non tanto per risparmiare, forse c'è anche quella dimensione ma anche per una sensibilità al consumo di certi prodotti che nel tempo è cresciuto. Quindi anche questo è un aspetto importante che va considerato con attenzione quando cerchiamo di capire la struttura, la configurazione dei consumi. E poi c'è un secondo fattore che è il ciclo di vita dei mercati food. I mercati food sono mercati maturi e quando i mercati sono maturi i consumi fisiologicamente non crescono. Se noi proviamo a fare un'analisi dei codici prodotti che stanno oggi in un supermercato, che vengono trattati in un supermercato, normalmente questi codici prodotti ammontano a circa 8.000 unità. Bene, se voi sommate i codici prodotti che sono in una fase di maturità o in una fase di declino, voi vedete che ormai più del 70% dei codici prodotti nel mercato alimentare sono codici maturi e quindi non più in grado in qualche modo di soddisfare i bisogni dei consumatori. Quindi in questo senso anche questo è un elemento che condiziona la dinamica dei consumi. In altre parole, dietro a questo tema c'è tutta la grande problematica dell'innovazione nei mercati alimentari, dell'innovazione dei prodotti alimentari, tenendo presente poi ce lo diranno i nostri ospiti, che fare innovazione nei prodotti della tradizione, pensiamo al grana padano, pensiamo ai salumi, pensiamo ai vini, non è un esercizio per nulla semplice. Il terzo fattore è il consolidamento negli ultimi anni di nuovi bisogni da parte dei consumatori. Dalle nostre indagini fatte appunto nelle ultime settimane, voi vedete come nelle famiglie italiane è crescente la quota di componenti di queste famiglie che seguono alimentazioni diverse rispetto a quelle più tradizionali, penso alle alimentazioni vegetariane o vegane. Ci sono componenti che stanno manifestando sempre di più grazie a una maggior conoscenza di tutta una serie di fenomeni, di problematiche, degli atteggiamenti di intolleranza verso il consumo di alcuni prodotti, pensiamo all'intolleranza al lattosio, al glutine e via dicendo. Ci sono consumatori sempre più attenti ai prodotti naturali, prodotti biologici. In qualche modo i prodotti tipici, come il grana padano, il parmigiano reggiano, rientrano in quest'area. È interessante sottolineare come nella peggior crisi economica di sempre, negli ultimi dieci anni, i consumi dei prodotti tipici hanno registrato dinamiche molto positive, decisamente migliori rispetto alle dinamiche dei prodotti più convenzionali o multinazionali. Le piccole aziende che producono, che hanno prodotto prodotti tipici, sono andate meglio delle multinazionali nell'ambito dei mercati alimentari. Dopodiché sulla dinamica dei consumi e sulla dimensione qualitativa dei consumi incide questa domanda di benessere da parte dei consumatori. Il 14% delle famiglie ha componenti che seguono una dieta prescritta dal medico, ma addirittura un terzo della popolazione italiana è soggetto a un regime di dieta. Dire questo significa ridurre le quantità consumate. Questo per sottolineare come la dinamica dei consumi da un punto di vista quantitativo è stata condizionata non solamente dalle classiche grandezze economiche, macroeconomiche, il reddito, la ricchezza piuttosto che le aspettative, ma in realtà da un cambiamento degli stili di consumo degli italiani. In particolare dalle nostre ricerche in questi anni sono emersi cinque nuovi paradigmi che stanno condizionando gli stili di consumo degli italiani. Il primo paradigma è il paradigma della razionalità. Io adesso qui vado molto veloce per dirvi semplicemente che con questa matrice noi abbiamo classificato i consumatori che frequentano i supermercati e il comportamento che hanno nei supermercati dove volendo un attimino schematizzare, clasterizzare i comportamenti d'acquisto, voi vedete come dal 2008 al 2018, quindi in coincidenza con questi anni di grande discontinuità e di grande imprevedibilità, voi vedete come il profilo dei consumatori razionali è diventato il profilo dominante. Che cosa significa questo? Qual è la caratteristica di un consumatore razionale? Il consumatore razionale è un consumatore che si fa sempre più domande quando acquista i prodotti, è un consumatore che fa sempre più confronti. Io spiego ai miei studenti all'università che dieci anni fa l'immagine che si aveva del consumatore davanti agli scaffali di un punto di vendita era l'immagine di un individuo che correva tra gli scaffali e buttava dentro i prodotti nel carrello. Oggi l'immagine è di un consumatore fermo davanti agli scaffali con due prodotti in mano che confronta le informazioni delle confezioni riportate nei prodotti. Quindi è un consumatore sempre più informato, è un consumatore che si fa delle domande e badate per chi poi fa politica di mercato e fa politica di marketing, questa è una brutta storia perché quando il consumatore si fa delle domande diventa più razionale, mette in discussione tutta una serie di comportamenti del passato. Quindi il consumatore è più razionale, ma attenzione un consumatore più razionale spreca anche molto di meno. Nel 2008 all'inizio della crisi il livello dello spreco alimentare nel nostro paese era pari al 20% della spesa complessiva alimentare. Le famiglie italiane acquistavano 100 e consumavano 20. Tutta una serie di ricerche anche da parte dei coltivatori diretti hanno dimostrato questo fatto. Bene, in questi anni i consumatori si sono fatte delle domande e hanno capito che lo spreco non solo era un problema di tipo etico, ma è anche un problema di tipo economico. Che senso ha investire una parte del proprio potere d'acquisto nell'acquisto di prodotti quando poi quei prodotti non si consumano e quindi i consumatori hanno ridotto le scorte, hanno cambiato i comportamenti d'acquisto, hanno sprecato molto di meno. Guardate, questa ha delle implicazioni perché il livello di consumo delle famiglie italiane non è cambiato. Ieri acquistavano 100 e consumavano 80, oggi acquistano 80 e consumano 80. Che cosa è successo? Che sono calate le vendite del 20%, per cui quando noi associamo le vendite ai consumi in realtà sbagliamo. Non sempre c'è coincidenza perché in mezzo spesso c'è lo spreco. Il consumatore è diventato razionale e quindi certamente ha un'attenzione maggiore verso il fenomeno dello spreco che non aveva in passato. Il secondo paradigma è il paradigma del benessere. I consumatori consumano i prodotti alimentari pensando sempre di più al benessere fisico perché insomma il cibo è importante rispetto poi alle condizioni fisiche degli individui ma anche consumano i prodotti pensando al benessere, chiamiamolo così, di tipo psicologico. Ci sono alcuni prodotti, penso a un prodotto tipico del nostro paese, il culatello di zibello che ha un prezzo anche particolarmente elevato che viene consumato in determinate situazioni, in determinate occasioni con l'obiettivo di gratificarsi. Perché è il consumo dell'occasione, perché si vuole festeggiare qualcosa. Per cui è interessante vedere come dietro al consumo dei prodotti tipici c'è anche questa dimensione della gratificazione. I sociologi sostengono che la crescita dei prodotti tipici è stata favorita dal fenomeno della globalizzazione, dove questo fenomeno ha creato incertezze e insicurezza nelle persone da un lato e dall'altro i prodotti tipici vengono associati al campanile, al luogo dove si è nati e dove questo luogo dà rassicurazione, dà delle certezze che a livello internazionale poi spesso non si hanno. E quindi come potete vedere c'è una propensione crescente da parte dei consumatori a consumare prodotti a basso contenuto di grassi, a privilegiare i prodotti realizzati con le materie prime italiane, a consumare i prodotti di OP, IGP, piuttosto che i prodotti a chilometro zero e via dicendo. Quindi questo è il secondo paradigma. Terzo paradigma è il paradigma dell'emancipazione. Il consumatore ha messo in discussione le ideologie del marketing. Sempre di più per le aziende è difficile persuadere i consumatori ad avere certi tipi di comportamento d'acquisto. Guardate c'è sempre stato un dibattito nel marketing per capire se il marketing è creazione di nuovi bisogni, persuasione oppure è informazione. Si può dire che negli ultimi anni ci si è spostati dalla prima area alla seconda area. I consumatori sono sempre più razionali, sono sempre più smart, sono sempre più informati, non subiscono più passivamente le politiche di marketing delle imprese. Tanto che qui abbiamo un dato che è emblematico di questo nuovo comportamento dei consumatori, quello riguardante le relazioni di fiducia tra i consumatori e le marche. Voi vedete che i consumatori sono diventati sempre più infedeli, hanno sempre di meno una marca di fiducia, cambiano più frequentemente le marche, hanno un basket di marche tra cui scegliono la marca che in quel momento è disponibile nel luogo d'acquisto dei prodotti. Questo vale per le marche ma vale anche per le insegne commerciali, quindi per i punti di vendita che distribuiscono i prodotti di largo consumo. Il quarto paradigma, c'è un errore, anche i professori ogni tanto sbagliano, è il paradigma dell'informazione. Siamo bombardati da informazioni continue, sono informazioni di tipo tradizionale, attraverso i media di tipo tradizionale, la stampa, la tv, i volantini, le affissioni, la radio e via dicendo. Ci sono le informazioni web ma ci sono anche le informazioni social che stanno in qualche modo anche loro condizionando il comportamento degli acquisti. Negli Stati Uniti sono stati fatti una serie di studi molto interessanti per capire l'impatto che il passaparola sui social ha nei confronti di determinati prodotti o di determinate marche, arrivando alla conclusione che quando il passaparola è negativo, almeno il 15-20% dei consumatori cambia un'idea sulla marca o sul prodotto da acquistare. Quindi anche questo è un elemento importante che sta giocando sempre di più nei comportamenti dei consumatori. E infine l'ultimo paradigma è il paradigma della liquidità dei consumi. Facendo riferimento insomma agli studi di Bauman, un grande sociologo che ha teorizzato la società liquida, noi potremmo dire che anche i consumi sono diventati un po' liquidi. Tanto che noi spesso quando parliamo di nuovi modelli di consumo pensiamo quasi esclusivamente ai vegetariani e ai vegani. In realtà alcuni sociologi dei consumi si sono divertiti a clasterizzare in modo molto più ampio questi modelli di consumo individuando i fruttariani, sono quelli che consumano solo frutta, i crudisti, quelli che utilizzano solo alimenti crudi, i reducitariani sono quelli che ogni tanto si pentono e tornano indietro quindi combinano un po' i diversi consumi. I pescetariani sono carne di pesce, i pollotariani sono carni bianche, i macrobiotici sono quelli che tutte le volte che mangiano qualcosa usano la bilancia per capire insomma qual è l'equilibrio nutrizionale dei prodotti che tendono a consumare. I locavori, quelli del chilometro zero, come vedete c'è stata una variazione, si parla di entro 200 chilometri perché a fuori di parlare di chilometro zero si è capito che si mangiava poco e quindi c'è stata un'estensione dell'area di riferimento. I paleolitici, quelli che insomma come un tempo vanno a caccia, vanno a pesca e si nutrono di quello che cacciano e di quello che pescono ma attenzione ovviamente per sorridere un po' è domenica, quindi è giusto tenere un po' i toni leggeri. Ci sta un ultimo profilo di consumatori, un ultimo cluster di consumatori che è quello dei bretariani, cioè quelli che si nutrono solo di aria e di sole. Ma proprio l'altro giorno in televisione sentivo uno di questi, sono pochissimi per la verità e il commento di un medico è stato se va avanti così non dura a lungo. Per quello che sono pochi. Questi paradigmi stanno avendo delle implicazioni importanti sul marketing e soprattutto sulla configurazione, la struttura del consumo. Prima conseguenza, prima implicazione, il ridimensionamento dei cosiddetti grandi mercati. È cambiato il paniere della spesa tradizionale delle famiglie italiane. In passato questo paniere era formato da prodotti tipici, tradizionali come la pasta, il latte, il caffè. Ebbene come potete vedere negli ultimi anni, dal 2011 al 2018, noi abbiamo registrato in valore assoluto veramente un crollo significativo dei consumi dei cosiddetti prodotti che un tempo facevano parte della spesa tradizionale delle famiglie italiane. Quindi la prima implicazione è la seguente. La seconda implicazione è lo sviluppo di nuovi segmenti di consumo. Voi vedete che nei segmenti convenzionali le dinamiche di vendita sono tutte negative, i segni sono rossi, ma nei segmenti salutistici abbiamo andamenti particolarmente positivi. Quindi il consumatore sempre di più legge le categorie di prodotto, entra nelle categorie di prodotto e quindi tende a modificare la struttura delle categorie di prodotto. Ancora, è nata una ristrutturazione dei momenti di consumo. Gli amici che producono biscotti, merendine piuttosto che latte, da un po' di tempo sostengono che gli italiani non fanno più la prima colazione. Non è assolutamente vero. Gli italiani continuano a fare la prima colazione, però il menu è completamente diverso. Vedete quali erano le categorie di prodotto che formavano la prima colazione ieri, vedete quali sono le categorie di prodotto che formano la colazione oggi. Tra l'altro in chiave di marketing, volendo confrontare i valori di vendita assoluti da una parte e dall'altra, c'è stata sostanzialmente una compensazione. Quindi i segni negativi che abbiamo sul menu tradizionali di ieri sono stati compensati in qualche modo anche in valore assoluto dai segni positivi che abbiamo sul menu di oggi. E infine si è verificato un processo di qualificazione del carrello della spesa. Guardate, questo è l'aspetto più interessante. In passato, quando c'erano le crisi economiche, guardate, prima del 2008 nel nostro paese avevamo avuto cinque importanti crisi economiche, cinque importanti crisi congiunturali, che però erano durate mediamente 16 mesi. Cioè in passato, prima del 2008, quando parlavamo di crisi economiche, parlavamo di periodi difficili che duravano 16 mesi. L'ultima crisi è durata 10 anni, quindi forse sbagliavamo prima a chiamare crisi economiche o forse sbagliamo oggi a chiamare quello che è successo negli ultimi 10 anni, crisi economica. Sta di fatto che quando le crisi economiche erano brevi, i consumatori per risparmiare tendevano a privilegiare i cosiddetti primi prezzi o a frequentare il discount tradizionale, quello molto orientato ad offrire assortimenti con prezzi molto bassi. Bene, nella peggior crisi economica di sempre è successo esattamente il contrario. Voi potete vedere come i tassi di crescita dei prodotti, diciamo premium, dei prodotti di maggior qualità, dei prodotti con il posizionamento di prezzo più alto sono stati molto più alti rispetto ai prodotti di base che hanno registrato invece una dinamica delle vendite più negativa. Quindi c'è stato un incremento dei prodotti di servizio, dei prodotti premium, dei prodotti di tipo salutistico. Tutto questo ha portato ad una ridefinizione del concetto della qualità dei prodotti. Come oggi i consumatori definiscono la qualità. In passato i consumatori facevano riferimento a poche variabili, in particolare facevano riferimento al gusto dei prodotti, facevano riferimento alle caratteristiche organolettiche dei prodotti, facevano riferimento al prezzo. Bene, anche la definizione che oggi i consumatori propongono del concetto di qualità dei prodotti è cambiata notevolmente. È diventata multidimensionale perché oggi i consumatori fanno riferimento alla sicurezza alimentare, quindi considerando la composizione degli alimenti e i valori nutritivi dei prodotti, l'origine produttiva dei prodotti, la tracciabilità, la denominazione di origine, il contenuto salutistico, quindi i prodotti integrali, prodotti senza, i prodotti con, il grado di intolleranza che i prodotti hanno nei confronti di alcuni consumatori, la naturalità dei prodotti, quindi i prodotti locali, i prodotti biologici e infine il livello di convenience, dove attenzione convenience nella definizione anglosassone non sta per convenienza di prezzo ma per convenienza di servizio, sempre di più i consumatori sono disposti a spendere di più pur di acquistare prodotti pratici, comodi, funzionali, pensiamo ai piatti pronti che stanno avendo un successo incredibile nei supermercati, pensiamo ai prodotti tipici, per esempio formaggi e salumi che vengono venduti nei reparti a libero servizio rispetto ai reparti a gastronomia, nei supermercati, che hanno un posizionamento di prezzo del 40% superiore, ma che vengono ovviamente privilegiati rispetto agli acquisti che si fanno nel reparto gastronomia semplicemente perché hanno un contenuto di servizio maggiore, per esempio sono conservati in una vaschetta, quindi possono durare più a lungo, evitando quindi gli sprechi, per esempio non si fa la coda al supermercato, per esempio c'è una varietà maggiore di marche, quindi il livello di servizio tende ad essere maggiore, il consumatore come vedremo fra poco, considera sempre con più attenzione le contropartite che riceve in termini di valore rispetto al prezzo che tende a pagare, per esempio visto che parliamo di grana potrebbe essere interessante vedere come i consumatori tendono a definire la qualità del grana, facendo riferimento ai tempi di stagionatura, ai gradi di controllo e di sicurezza, al gusto, alla storicità e alla tradizione che rappresentano prodotti che appartengono a questo ambito e via dicendo, quindi questo per farvi capire che anche la definizione della qualità dei prodotti alimentari è cambiata rispetto al passato. Quali sono quindi le sfide di marketing, vado rapidamente verso la conclusione, che debbono affrontare le imprese? Quali sono le politiche di mercato? Perché attenzione quando parliamo di marketing, contrariamente a quello che pensa qualcuno, non parliamo della pubblicità, non parliamo delle ricerche di mercato, parliamo delle politiche di mercato delle imprese, che è qualcosa di molto ma molto più complesso, anzi parliamo delle vere strategie delle imprese, perché in un contesto in cui i mercati stanno cambiando significativamente oggi il marketing è diventato determinante per lo sviluppo delle imprese. Fare marketing significa capire i bisogni dei consumatori, significa fare dei prodotti che soddisfano questi bisogni, significa avere un posizionamento distintivo rispetto ai competiti, significa comunicare i valori, diciamo, veri dei prodotti che le aziende offrono. Allora, io credo che le sfide oggi per le aziende di marketing, di mercato, siano fondamentalmente quattro. La prima sfida è la sfida della visione. Vi propongo le immagini dei miei studenti nella piazzetta della nostra facoltà di economia. Noi abbiamo un corso di laurea che ci sta dando magistrale grandissime soddisfazioni in food marketing e strategie commerciali. È un corso di laurea in economia nato da una collaborazione con la facoltà di Agrari e Scienze Ambientali e Scienze Alimentari. Abbiamo 100 posti disponibili. Il giorno della laurea i nostri ragazzi hanno tutto il posto di lavoro. Abbiamo rapporti con tutte le maggiori aziende alimentari del paese. Facciamo un sacco di attività didattica con queste aziende. Insomma, questi ragazzi rappresentano il concetto della visione. Mettersi la mano sulla fronte significa coprirsi dalla luce per guardare più lontano. Oggi credo che le aziende, per affrontare le nuove sfide dei consumi, debbano avere visione. Avere visione significa capire quali sono i trend di cambiamento della società, prima di tutto, dell'economia e dei mercati. Significa leggere i segnali deboli, perché i segnali forti li vede anche l'uomo della strada e quando si leggono i segnali forti è troppo tardi. Significa cercare di capire quali sono i fattori che stanno cambiando il comportamento dei consumatori. Anche qui faccio un po' di filosofia, ma credo che a volte la filosofia è importante per poi avere anche dei comportamenti sociali ed economici di un certo tipo, citandovi quello che ha detto Karl Popper, un filosofo importante del secolo scorso, il quale ha spiegato la differenza tra il concetto di cambiamento e il concetto di discontinuità. Lui ha sostenuto che a partire dal primo decennio degli anni 2000 noi siamo passati da una situazione di cambiamento a una situazione di discontinuità e quindi dal marketing, come lui l'ha definito, degli orologi al marketing delle nuvole. Perché? Perché per Popper il cambiamento era un processo evolutivo molto lento, molto graduale, dove le regole del gioco cambiavano lentamente, dando a tutti la possibilità di adeguarsi, di adattarsi. In qualche modo Popper ha utilizzato la metafora degli orologi. Se voi pensate al movimento degli orologi è un movimento molto lento che vi permette di prevedere il tempo che verrà, di pianificare, di prevedere quello che farete, quello che succederà. È un movimento molto ordinato, molto regolare, molto deterministico. Bene, Popper sostiene che dal 2008 in poi, o meglio lui diceva già dal 2005 in poi, noi siamo passati nel mondo delle nuvole. Siamo passati in una situazione di discontinuità dove tutto è molto veloce, tutto è molto improvviso. Fare previsioni, non dico fra due anni, a due anni, ma ad una settimana è sempre molto problematico. È interessante vedere come nelle aziende è sempre più difficile fare i budget aziendali, mentre in passato, prima del 2008, insomma, era un esercizio molto semplice. Oggi nelle aziende si continuano a rivedere i budget. Voi sapete che i budget sono degli esercizi di previsione economica su quelle che devono essere i trend di sviluppo delle aziende. Perché siamo nel mondo delle nuvole. Gli agricoltori capiscono quello che voglio dire, perché loro vivono col mondo delle nuvole. Quando devono coltivare i campi devono fare sempre i conti col mondo delle nuvole. Sta di fatto che il mondo delle nuvole è un mondo caotico. Prima c'era il sole, guardate, stanno arrivando le nuvole. È un mondo mutevole, è un mondo irregolare. Se voi prendete i vostri iPhone, iPad e andate a vedere le previsioni meteorologiche per domani, su dieci siti, tre vi diranno che piove, tre vi diranno che c'è sole, qualcun altro se la cava dicendo che c'è nuvole, ogni tanto magari pioverà anche un po'. Questo per dirvi che prevedere il movimento delle nuvole non è semplice. Del resto, ovviamente arrivando dall'Università Cattolica devo fare questo riferimento, ma credo che Papa Francesco sia un riferimento un po' per tutti. Papa Francesco in un'intervista al Time ha detto recentemente che il futuro non è più quello di una volta, ma non per dire che sarà un futuro peggiore. Io dico ai miei studenti, il vostro futuro non sarà più quello dei vostri nonni e dei vostri genitori, ma non perché sarà peggiore, perché le regole del gioco saranno completamente diverse. Il contesto politico, il contesto sociale, il contesto tecnologico è completamente diverso. Spiego loro che i loro nonni hanno fatto un lavoro per tutta la vita, i loro genitori l'hanno cambiato tre o quattro volte e loro lo cambieranno venti volte. Questo significa che il futuro non è più quello di una volta. Papa Francesco dice non stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti, quelli ci sono sempre stati, stiamo vivendo un cambiamento, un cambiamento d'epoca. E questo vale anche per il marketing, anche per le imprese, dove le sfide sono la sfida del value for money, è un'espressione anglosassone che rende molto bene l'idea del rapporto tra prezzo e valore del prodotto. Sempre di più i consumatori valutano il prezzo di un prodotto in funzione delle contropartite di valore che ricevono. Sono disposti a spendere di più se percepiscono le contropartite di valore, che possono essere contropartite di tipo funzionale o di tipo esperienziale, contropartite di tipo oggettivo o di tipo soggettivo. Sta di fatto che sempre di più le imprese devono spiegare il value formale dei loro prodotti, devono spiegare ai consumatori per quale motivo i consumatori dovrebbero acquistare quel prodotto o quella marca, cercando di enfatizzare i contenuti, ripeto, di tipo oggettivo e di tipo soggettivo che stanno dietro appunto a quei prodotti. Interessante, vi faccio qualche esempio. Citiamo un prodotto tipico portante, il prosciutto di Parma. Voi vedete quali sono i valori che il consumatore associa a questo grande prodotto italiano. Vedete non solo il valore della qualità, ma il valore della tradizione, della garanzia, della localizzazione, Parma, del territorio, la raffinatezza, il gusto, la praticità e via dicendo. La stessa cosa lo possiamo vedere per il vino. Dietro al vino ci stanno valori di organoletticità, tipologie di uve, acidità, facilità di beve e via dicendo, valori di territorialità, il microclima, la storia, la ristorazione del luogo, valori di artigianalità. Valori di funzionalità e perché no valori di esperienzialità, l'esclusività, la rassicurazione, la convivialità. Cioè sempre di più quindi dietro ai prodotti ci stanno dei valori e quindi diventa importante saper comunicare questi valori ai consumatori se vogliamo che i consumatori siano disposti a spendere un determinato prezzo per questi prodotti. La penultima sfida, arrivo veramente alle conclusioni, è la sfida della multicanalità. Sempre di più i consumatori tendono a frequentare canali diversi, punti di vendita diversi per acquistare i prodotti. In un contesto in cui il peso dei canali negli ultimi 15 anni è cambiato significativamente. 15 anni fa la previsione nel nostro paese era che il paese sarebbe stato dominato dalle grandissime superfici di vendita, gli ipermercati. In realtà da 7-8 anni a questa parte gli ipermercati sono in grande crisi. Le insegne commerciali e soprattutto internazionali, penso Carrefour, Oshan, che hanno investito molto in quella direzione, sono in grandissima difficoltà. C'è stata la rinascita dei negozi di prossimità, dei negozi di quartiere. E soprattutto, come potete vedere, si è sviluppato il discount, che attenzione non è più il discount di una volta, perché oggi ci sono dei discount che sono molto più belli di alcuni supermercati. Adesso è arrivato un nuovo competitor in Italia, che è Aldi, che è leader insieme a Lidl in Europa della formula discount. Se voi andate a vedere, i punti di vendita di Aldi non hanno nulla da invidiare ai migliori supermercati italiani. Ormai trattano i prodotti di marca leader, trattano i prodotti tipici locali, danno un livello di servizio molto elevato. Aldi, tra l'altro, ha fatto un investimento sui giovani, per cui è interessante entrare nei punti di vendita di Aldi e trovare ragazzi che hanno vent'anni, pieni di entusiasmo, perché è il loro primo lavoro, hanno molta voglia, e questo ovviamente crea anche un clima particolare in quel contesto. Tenendo presente che quando oggi parliamo di canali di vendita, parliamo sempre di più di media di comunicazione. Il punto di vendita è per le famiglie italiane il vero grande media di comunicazione. Sempre di più le decisioni di consumo ed acquisto vengono prese all'interno del punto di vendita. Tanto che se noi facciamo un po' di conti, adesso non sto a entrare troppo nei particolari, moltiplicando il numero di visitatori nel giorno medio dei supermercati e dei supermercati in Italia per il numero di supermercati e supermercati nel nostro Paese, voi vedete che quotidianamente l'audience dei punti di vendita è di circa 14 milioni e mezzo di persone. Qual è quella trasmissione televisiva che garantisce quest'audience? Forse l'abbiamo avuto un po' con Sanremo, ma neanche tanto. Forse, sì, anzi sicuramente abbiamo toccato il punto più alto quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1996, ma quest'anno non ci tocca e quindi siamo fuori da questa audience. Concludo dicendo che l'ultima sfida è quella della competizione verticale. All'interno dei mercati stanno cambiando gli assetti competitivi tra le marche. Le grandi marche, mediamente, ovviamente poi dipende dalle categorie di prodotto, sono in difficoltà, stanno perdendo quote di mercato a fronte della crescita delle piccole marche che stanno presidiando meglio i nuovi segmenti di consumo, diciamo, espressi dai consumatori, che stanno facendo più innovazione e, dall'altra parte, le marche dei distributori, le marche commerciali, pensate appunto a sapori dintorni di Conad, piuttosto che a altre linee, che hanno cominciato a cavalcare i propri prodotti di qualità e su quei prodotti stanno andando molto bene. Chiudo dicendo come questo aspetto è molto importante oggi per chi fa marketing, soprattutto per chi opera, per esempio, in una grande azienda, in una grande multinazionale. Siamo stati con i nostri studenti in visita alla Nestlé, la più grande multinazionale alimentare del mondo, circa due mesi fa. Un nostro studente ha chiesto al Presidente della Nestlé, ma quali sono i vostri principali concorrenti? Immaginando che, appunto, questo Presidente facesse riferimento ad altre grandi multinazionali, la risposta è stata sono le marche minori. Questo per farvi capire come il cambiamento dei comportamenti dei consumatori, in qualche modo, sta condizionando sempre di più gli assetti competitivi dei mercati e quindi anche le politiche di mercato delle imprese. Grazie per l'attenzione. Grazie, Fornari. Una domanda però con risposta rapidissima. Questa è un'analisi estremamente dettagliata della situazione italiana. In generale possiamo dire che queste tendenze più o meno sono anche, per esempio, in Europa? Sono anche in Europa, tanto che in questo momento all'interno delle multinazionali c'è un dibattito su come riprogettare i portafogli di prodotti nella direzione che dicevo. Le grandi multinazionali sono tornate ad acquistare marche locali, a differenza di quello che avevano fatto negli ultimi dieci anni, dove avevano puntato a fare solo prodotti globali. e quindi questa è la conferma che il cambiamento dei modelli di consumo sta dando sempre più spazio alle nicchie di mercato e ai segmenti di mercato. Questo è importante perché certo poi noi soprattutto in un caso come questo parliamo di aziende che hanno una proiezione anche internazionale. Va bene, Fornari credo che abbia dato stimoli infiniti. Tra l'altro credo che questo sia l'ultimo qua alla loggia del grano degli interventi quindi possiamo avere anche un qualche minuto in più rispetto ad altri dibattiti. Credo che alla domanda iniziale facciamo un primo giro veloce. Come vi siete effettivamente adattati a questi cambiamenti che per aziende in realtà di dimensione grossa credo non sia stato facile? Cominciamo da lei e Bertinelli. Buongiorno a tutti. Parmigiano Reggiano è forse il prodotto tipico, più tipico che c'è. Quindi pensare a una innovazione nel mercato di un prodotto come questo sembra una domanda alquanto complessa a cui dare risposta. In realtà il Parmigiano Reggiano è un prodotto secondo me estremamente fortunato perché il Parmigiano Reggiano per come viene fatto è un prodotto estremamente in consonanza con tutto quello che abbiamo sostanzialmente sentito. E il valore della marca è altissimo. 100 gli intervistati, 98 conoscono la marca Parmigiano Reggiano. Probabilmente ci sono solo i bambini che alla domanda conosci il Parmigiano Reggiano non ti sanno rispondere. Però quello che tecnicamente è la conoscenza della marca, la awareness, e collocarla alta. Ipsos ci dice che Parmigiano Reggiano è una delle dieci marche più importanti al mondo per premiumness. Questo non significa conoscere i benefici del Parmigiano Reggiano. Infatti 98% conosciamo la marca quando cominciamo a dire ma perché il Parmigiano Reggiano è insostituibile? Perché il Parmigiano Reggiano non può essere sostituito da nessun altro tipo di formaggio? E lì le difficoltà erano tante. Quindi come ci siamo posti? Ci siamo posti non solo con una nuova campagna di comunicazione. Abbiamo proprio iniziato un riposizionamento della marca dentro la testa dei consumatori. Ma quali consumatori? Abbiamo identificato non chi acquista il Parmigiano Reggiano, non sono responsabili acquisti nella famiglia, ma altre sei classi di potenziali grandi consumatori di Parmigiano Reggiano. Ad esempio le mamme incinta trattino neomamme. Ci sono 500.000 parti all'anno in Italia. Il Parmigiano Reggiano è un elemento ideale per la fine della gravidanza e per lo svezzamento dei bambini. Ad esempio gli sportivi. Perché il Parmigiano Reggiano è un alleato naturale, un integratore naturale, perché in 45 minuti tu hai gli amminoacidi pronti per l'assorbimento quando ad esempio per la carne ti servono 4 ore perché c'è tutto il processo digestivo per l'assorbimento. E così i food lovers, cioè per ogni classe di potenziale alto consumatore di Parmigiano Reggiano, siamo andati a dare un messaggio rilevante, c'è un messaggio che ascolta, con un canale di comunicazione che quella classe di consumatori segue in un periodo dell'anno dove il messaggio rilevante viene ascoltato. Quindi un riposizionamento della marca andando a dire a queste sette categorie di potenziali grandi consumatori i benefici del Parmigiano Reggiano. Cioè perché il Parmigiano Reggiano è insostituibile. E questo per transare da una marca conosciuta a quella che tecnicamente si chiama una love brand. Quindi ti voglio bene perché per me hai determinati benefici. Però il percorso nel nostro desiderato non è finito perché dobbiamo trasferire da una love brand a quella che tecnicamente si chiama una lifestyle brand. Quindi io vivo uno stile di vita tale e nel Parmigiano Reggiano vedo un alimento che rispecchia il mio stile di vita. Quindi il concetto della naturalità, l'assenza di additivi, il rispetto dell'ambiente per come il Parmigiano Reggiano viene prodotto coltivando le foraggere eccetera eccetera eccetera. Tutto questo deve portare le persone a dire valori ha come il Parmigiano Reggiano. E quindi questo apre un altro grande scenario. Cioè il fatto che il Parmigiano Reggiano come del resto, cioè tanti altri prodotti tipici ovviamente vi parlo di quello che è il mio prodotto, il Parmigiano Reggiano. Il Parmigiano Reggiano può diventare anche un magnete per attrarre sul territorio delle persone, non solo i turisti. Quindi andiamo a vedere dove si fa il Parmigiano Reggiano, come si fa il Parmigiano Reggiano. Ma visto che il Parmigiano Reggiano viene fatto seguendo determinate regole di coltivazione dei campi, allevamento degli animali, un territorio diventa anche attrattivo perché magari in quel territorio è bello vivere, è bello andare. Quindi un grande percorso che però presuppone anche che ovviamente i produttori abbiano delle competenze che vanno un attimino oltre rispetto al faccio il fieno, allevo degli animali, mungo gli animali e faccio un formaggio. Perché si tratta di porsi nei confronti di un consumatore estremamente evoluto e attento e che dà valore a determinati intangibili legati al mondo del prodotto e si tratta di non farsi trovare impreparati. Perché la cosa peggiore, mi permetto, io credo un altro paradigma è non ci può essere discrasia tra quello che dici di essere e quello che sei. Perché in realtà con questo strumento nel momento in cui, concedetemi, racconti una balla hai veramente un boomerang che è pazzesco. Quindi grande opportunità per il parmigiano reggiano perché è un prodotto estremamente moderno nonostante i suoi 900 anni in quest'ottica ma produttori di parmigiano reggiano che assolutamente non si devono far trovare impreparati. Quindi è stata una situazione abbastanza curiosa. Cioè rispetto a questi cambiamenti profondi il prodotto era pronto, il problema era difendere questa immagine per non cadere dentro una situazione nella quale invece poteva non emergere sufficientemente. Ecco, questa quindi è una strategia abbastanza notevole. Ma si tratta semplicemente di dire ai consumatori chi siamo. Cioè noi non dobbiamo far nulla di diverso se non dire quello che facciamo e quello che siamo e non essere furbetti perché sapete che insomma i furbetti ci sono dappertutto. Tra l'altro questo vale per tutti. Dico una cosa come dire a discredito dagli organizzatori del festival e di questo dibattito. qui manca un interlocutore, ho visto i loro prodotti recentemente in un supermercato americano che è il parmigianchianti, che adesso penso che gli aggiungeranno anche parmigianchianti Ferrari pur di riuscire, credete, è una roba mostruosa. Diteci qualcosa anche su come si può a livello mondiale combattere queste mostruosità pazzesche insomma perché è veramente... Credo che purtroppo sia, non so, legale, possibile, ma certo parmigianchianti, non so, cosa fate? Gli uccideteli? Ma allora, per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche all'interno dell'Unione Europea esiste una normativa ben precisa dove le denominazioni, in modo particolare i prodotti tipici, sono tutelate ad esempio all'interno dell'Unione Europea parmesan significa parmigiano reggiano poi l'Unione Europea, proprio in questo periodo storico, sta facendo gli accordi bilaterali quindi l'Unione Europea con paesi del mondo sta contrattando, da un punto di vista commerciale, diversi capitoli quindi non solo i prodotti agroalimentari quindi col Canada, col Giappone, col Messico si è concluso la settimana, 15 giorni fa oggi è in corso Mercosur, quindi Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasile il problema è che in quelle sedi non si può scendere a compromessi e non si può barattare il nome delle indicazioni geografiche con altri capitoli di natura commerciale quindi sicuramente da una tutela pari a zero ad avere un qualche cosina è una cosa positiva a cosa mi riferisco? ad esempio l'accordo bilaterale in Giappone parmesan può essere utilizzato anche per classificare altri formaggi a pasta dura l'importante è che sia specificata l'origine di quel formaggio a pasta dura ad esempio un parmesan australiano e non si possano utilizzare strumenti che evocano l'Italia quindi un'immagine italiana un termine italiano dal nulla a quello è già un passo in avanti ma sicuramente non sono gli accordi bilaterali che noi vogliamo e quindi lei mi dice cosa dobbiamo fare? dobbiamo avere una rappresentanza forte in quelle sedi ma sicuramente la storia politica soprattutto di questi ultimi tre mesi non ci lascia ben sperare perché non solo noi in questi tre mesi non abbiamo un governo ma se non abbiamo un governo non abbiamo neanche un ministro dell'agricoltura e questi temi tante volte non sono solo il ministero dell'agricoltura ma anche il ministero dello sviluppo economico il ministero per il commercio con l'estero quindi capite che noi produttori di indicazioni geografiche noi consorsi secondo me oggi abbiamo il dovere di affiancare una politica debole con una rappresentanza qualificata e assolutamente competente sì sì penso alla Cina dove c'è Ormani Kenetton allora Miriam Finocchiaro Granarolo Granarolo non fa solo formaggio però la domanda è sempre la stessa cioè questo adeguamento alla trasformazione come è andato come sta andando come lo vedete anche in proiezione vedete per esempio che una volta fatto una certa trasformazione si può andare via tranquilli oppure qui bisogna cambiare lui lo diceva le tecniche le modalità devono essere in grado di mutare anche molto rapidamente prego allora Granarolo ha come vocazione la valorizzazione del latte dei propri soci allevatori perché Granarolo SPA è una società per azioni controllata da un gruppo di allevatori circa 1000 allevatori che sono in 12 regioni italiane quindi ha come missione la valorizzazione del latte dei propri soci che è un latte italiano il problema qual è? che come ha ben evidenziato il professor Fornari la quantità di latte in particolare latte alimentare consumato in Italia diminuisce anno dopo anno ed è un trend a cui assistiamo da circa una decina d'anni ed è un trend che non tende a calare quindi è inevitabile che probabilmente la discesa sarà più significativa parallelamente quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo attrezzati per riuscire a valorizzare questo latte anche in altro modo come? Uno seguendo un pochino i trend di cui accennava il professore quindi proponendo al consumatore dei latti che incontrano il suo favore parlo in particolare per esempio dei delattosati che hanno avuto un'esplosione incredibile in questi anni e che hanno avuto quello che si chiama uno stretching di gamma quindi non parliamo più solo di latti ma anche di formaggi di yogurt dei lattosati in parallelo assistiamo e registriamo consumatori che chiedono sempre più prodotti i cosiddetti prodotti senza cioè senza lattosio d'accordo ma anche senza grassi senza zuccheri senza sali allora cosa facciamo? Cerchiamo di intuire prima che il fenomeno diventi maturo questi trend e cerchiamo di proporre al consumatore prodotti che vanno in questa direzione un caso diciamo studio molto interessante è in questo senso un prodotto che si chiama Oggi Puoi che è stato lanciato un anno e mezzo fa che oggi fattura 11.8 milioni di euro e che è sostanzialmente un prodotto una gamma di formaggi con un contenuto di sale e un contenuto di grassi inferiori rispetto ai formaggi tradizionali quindi una mozzarella un pochino più leggera in termini di grassi una mozzarella un pochino più leggera in termini di sali cito Oggi Puoi perché perché è un caso studio importante cioè evidente l'abbiamo immesso sul mercato avendo uno due prodotti oggi c'è una gamma di circa otto prodotti Oggi Puoi il consumatore è un consumatore sempre più attento effettivamente che anche per motivi salutistici magari una volta arrivato ai 40 anni parlo per me fa più attenzione a quello che mangia perché comprende che il metabolismo è cambiato perché comprende che occorre fare un pochino più attenzione analogamente recentemente abbiamo immesso sul mercato per esempio un prodotto un latte si chiama G plus che ha un contenuto di zuccheri un pochino inferiori perché? Perché da un'analisi che abbiamo fatto abbiamo registrato per esempio che al latte in particolare al latte intero viene associato l'idea peraltro parzialmente erronea di un alimento particolarmente importante in termini calorici per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto al mercato un latte parzialmente scremato privato di una parte degli zuccheri naturalmente contenuti all'interno del latte mentre parlava il professore però mi è venuto in mente un'analogia che volevo proporvi perché effettivamente sentivo poco tempo fa parlare proprio su Radio 24 peraltro Pagnoncelli del trend del fenomeno ormai assolutamente assodato relativo ai voti cioè noi mediamente decidiamo il 30% di noi decide che cosa votare alle elezioni negli ultimi tre giorni tre giorni che è una roba impressionante ecco voglio dire il fenomeno che registra Pagnoncelli è esattamente lo stesso fenomeno che per certi versi noi registriamo quando andiamo a vedere come si comporta il consumatore quando va al supermercato cioè mentre prima andava diretto al prodotto di marca che conosceva e lo metteva nel carrello oggi questo stesso consumatore si reca davanti allo scaffale e indugia vuoi per una proposta di marche o di prodotti della cosiddetta private label molto più varia vuoi anche perché effettivamente è un consumatore molto più consapevole molto più attento e che legge le etichette le provenienze che fa attenzione se il prodotto è italiano o non lo è che fa attenzione ai contenuti calorici anche se ce lo neghiamo che questi prodotti hanno ed è un consumatore che va monitorato allora come monitoriamo noi il consumatore quando io sono arrivata in Granarolo circa dieci anni fa c'era il call center tradizionale c'era il contatto col consumatore in occasione di attività fatte cosiddette in store cioè all'interno del punto vendita e poco più oggi abbiamo uno strumento che ogni giorno che Dio manda su terra a mezzogiorno e mezza ci da ci fornisce informazioni relativamente a quello che i consumatori dicono sulla rete come monitorando per esempio quello che viene detto sui social sui blog sui testate online ed è fondamentale rispondere in modo tempestivo eventuali quesiti di consumatori che alle volte non pongono più neanche la domanda direttamente all'azienda ma la pongono alla rete quasi che la rete sia detentrice di un sapere e questo è una cosa a cui dobbiamo porre grandissima attenzione perché il fenomeno della risposta data dal consumatore peraltro non sempre ben informato è un fenomeno dilagante che spesso fa danni alla marca lo dico in maniera molto costante perché per esempio tutti noi ma tutti noi qua presenti subiamo alle volte degli attacchi ingiustificati da persone che come dire diffondono informazioni non corrette allora la raccomandazione in assoluto ai consumatori che noi facciamo è di verificare sempre le fonti perché le fonti se sono scientifiche attendibili sono fonti sono come dire promuovono informazioni che possono essere diffuse viceversa chi risponde senza avere diciamo né arte né parte come si diceva un tempo spesso diffonde informazioni che non sono corrette non sono adeguate poi una nota la 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 rilevo sul discorso Italia ed estero ecco anche noi siamo presenti in 90 paesi del mondo non molte persone lo sanno e ovviamente questo processo di internazionalizzazione non è stato come dire una volontà di espansione ma semplicemente ma soprattutto una necessità di andare all'estero perché evidentemente a fronte del fatto che per esempio il latte fa così in Italia e anche in altri paesi un modo per valorizzare i nostri prodotti è portare prodotti made in Italy in altri contesti in altri paesi il paese che in assoluto apprezza di più i formaggi italiani è la Francia la Francia perché per tradizione per tradizione ha una una grande sapere no? caseario quindi la Francia è credo per tutti noi adesso penso anche per Parmigiano Reggiano e per Granapadano uno dei paesi di sbocco di elezione e anche qua la cosa interessante se ci spostiamo dall'Europa ad altri contesti come per esempio l'America o l'Asia cambiano le abitudini alimentari cambiano i gusti talvolta e alle volte si va incontro anche ai gusti di consumatori oltreoceano bene grazie il parmigiano in Cina va? veloce pochissimo 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 per i cinesi il latte l'alimento dei bambini quindi tutto quello che è derivato dal latte è un alimento per deboli per fragili ovviamente noi la pensiamo diversamente però non è detto per come è fatto a quel paese sta cambiando sta cambiando allora terza importante opinione su questi temi quella del consorzio Grana Padano Baldrighi cosa pensa? è interessante intervenire dopo Granarolo perché sostanzialmente nello spiegare qual è stata tutta l'evoluzione dell'azienda per adeguarsi alle necessità dei consumatori una sorta di elenco di tutto quello che noi non possiamo fare perché evidentemente arrivando da un prodotto tipico che ha un disciplinare di produzione codificato e rigido tutti questi passaggi evidentemente noi non sono consentiti se no devo dire con una difficoltà consistente legata alla modifica dei disciplinari ma qua insomma entriamo in un campo molto tecnico quindi dobbiamo un po' spostare il nostro obiettivo perché poi i consumatori sono sempre quelli e quindi loro non cambiano opinione a seconda dei prodotti che gli vengono proposti bisogna che ci sia la capacità di affrontare il tema in un altro modo e in realtà sono stati un po' due i binari che hanno condotto l'evoluzione della proposta di Grana Padano al consumatore che sono da un lato sul fronte del servizio e quindi la possibilità di offrire un prodotto sempre più fruibile l'abbiamo visto anche dalla relazione del professor Fornari che questo è diventato un elemento assolutamente trainante sorprendentemente i prodotti che hanno molto servizio costano il 40% in più della media dei prodotti ma sono quelli che hanno avuto lo sviluppo anche in un momento di difficoltà economiche e in questo devo dire c'è stata e continua a esserci un'evoluzione costante delle modalità con le quali il prodotto viene offerto ai consumatori ormai il Grana Padano grattugiato nelle buste sostanzialmente da 100 grammi poi insomma ci possono essere delle variazioni su questo ha raggiunto quasi un terzo dei consumi che è una cosa impensabile soltanto 10 anni fa ed è anche un grandissimo veicolo per affrontare il mercato internazionale dove abitudini alimentari e modalità di impiego dei prodotti sono talmente diversi per cui diventerebbe quasi impossibile pensare che quel consumatore si abitui a comprare il pezzo di formaggio portarselo a casa e cominciare a grattugiarlo se glielo offri in una forma in cui il prodotto è pronto all'uso evidentemente questo ti apre uno spazio importante la seconda direttrice qual è? portare a galla tutti i valori del prodotto tutte quelle qualità e benefici di tipo nutrizionale ed edonistico che i prodotti a denominazione d'origine portano con sé e sono molti di più di quelli che noi potevamo immaginare qualche anno fa e l'attività di ricerca devo dire intensa sul quale il consorzio del Granapadano si è molto speso in questi anni ci ha consentito di focalizzare molti di questi aspetti per esempio di portare all'evidenza il fatto che il formaggio è naturalmente privo di lattosio cosa che molti oggi tuttora non immaginano e che dobbiamo continuamente ribadire e ripetere anche dall'indagine che è stata fatta presso i consumatori questo elemento è evidenziato tutto sommato da una percentuale abbastanza bassa di consumatori la maggior parte pensa a formaggio latte e lattosio a di là del fatto che poi ci sia anche una concezione assolutamente discutibile sulla intolleranza al lattosio sappiamo che c'è una discrasia fortissima fra coloro che ritengono di esserlo e la percentuale di quelli che realmente lo sono quindi questo si collega un po' a tutto quel discorso che facevi molto correttamente sulle informazioni che sul web corrono totalmente incontrollate due anni fa credo ci siamo incontrati a Piacenza un anno fa quando c'è stato questa interessante giornata di studio fatta dalla FIL dalla International Day Reform che è un'organizzazione internazionale uno dei temi era questo e una delle spiegazioni che sono state portate sul tavolo è che le informazioni che corrono sul web che sono scambiate tra i cittadini e quindi tra i consumatori essendo considerate delle informazioni disinteressate assumono grande valore tutte le informazioni che arrivano dalle aziende o anche semplicemente dal mondo scientifico sono in qualche modo istintivamente considerate delle informazioni pilotate quindi il consumatore crede al vicino di casa che non ne sa nulla e non chiede alla ricerca dell'università o del centro di ricerca perché implicitamente ritiene che queste siano pilotate un problema molto grande che mi sembra giusto sottolineare è come la storia dei vaccini noi siamo immersi in questo problema non solo nel cibo è veramente un problema e devo dire che nel contesto in cui ci troviamo cioè dalla manifestazione di oggi penso che questo sia un tema importante e assolutamente così molto coerente con l'argomento di cui stiamo dibattendo per cui devo dire la vicinanza ai consumatori come vi dicevo noi dobbiamo fare in modo di portare la galla evidenziando i valori del prodotto i valori nutrizionali tutti i valori materiali che i nostri prodotti portano con sé cioè la vicinanza al territorio la cultura che si trascinano la storia che hanno dietro di loro e questo ci fa capire che in realtà il nostro dialogo con i consumatori italiani che peraltro sono molto preparati se li confrontiamo con i consumatori del resto del mondo ma soprattutto quando usciamo dall'Italia il nostro è un grande percorso di educazione dei consumatori e un grande percorso di educazione alimentare dobbiamo soltanto dobbiamo insegnare ai consumatori che affrontiamo fuori dai nostri confini la qualità del prodotto le sue caratteristiche le modalità di consumo la storia il territorio c'è tanto da raccontare ma devo dire è un percorso evidentemente lungo e faticoso vi chiedo rapidamente un ultimo giro allora anche risentendo magari Fornari soltanto il dibattito prima di questo ci ha fatto vedere fatto emergere questi problemi di differenza tra realtà e percezione allora è chiaro che in questo grande mutamento c'è anche viene anche data un enorme enfasi a delle cose che poi invece probabilmente se vengono sempre più comunicate sempre meglio faranno cambiare idea quindi bisogna anche stare attenti a come si segue tutta questa parte di informazione diffusa che contiene degli errori quindi contiene degli immaginari che però si può fare oppure bisogna chiudere un occhio l'altra cosa invece che mi piacerebbe sentire da voi è chiamiamolo il packaging la forma perché anche quella ha una sua evidente immagine cioè lo stesso prodotto può ottenere dei successi migliori delle penetrazioni migliori se lo confeziono diversamente no per esempio abbiamo avuto dei grandi cambiamenti in questo vino negli scatolotti che però mi dicono essere comunque di alta qualità il famoso cambiamento del tappo oppure il formaggio invece che il pezzo intero a cubotti ecco questo tipo di cose possono cambiare allora cominciamo magari ci dica qualcosa lei su questa possibilità di non adeguarsi completamente insomma fare marketing significa oggi partire dai bisogni dei consumatori tenere conto delle percezioni dei consumatori perché poi c'è il marketing delle percezioni e fare la comunicazione più corretta per informare il consumatore su quelli che sono i veri valori distintivi dei prodotti il DOP ha un grande valore ma spesso i consumatori non percepiscono questo valore quando noi facciamo le indagini sul consumatore per capire quanti sono i consumatori che colgono la differenza tra un DOP e un prodotto più convenzionale piuttosto che un similare e via dicendo soltanto il 45% dei consumatori sa esattamente che cos'è un DOP e quali sono i valori aggiunti di un DOP c'è un altro 55% che spesso fa confusione io credo che i consorsi e le aziende che poi sono associate ai consorsi dovrebbero come dire rivedere i paradigmi tradizionali della comunicazione rendersi conto che il mondo è cambiato come dicevamo prima siamo passati dal mondo degli orologi al mondo delle nuvole e quindi cambiare anche l'approccio nei confronti dei consumatori con tecniche di comunicazione diverse dove alla fine però ciò che conta è che bisogna sempre raccontare la verità ai consumatori l'idea che il marketing faccia un'attività di persuasione occulta appartiene o mai alla prehistoria vi do un dato su 100 prodotti che vengono lanciati ogni anno nel mercato del largo consumo solamente due sono prodotti di successo 98% dei prodotti sono destinati ad uscire dal mercato dopo due o tre mesi questo significa che se noi non raccontiamo correttamente le cose ai consumatori i consumatori che sono diventati smart razionali molto più informati rispetto al passato evidentemente rigettano poi la proposta delle imprese io credo che in questo paese dove abbiamo dei prodotti importanti che in altri paesi ci invidiano la stessa Francia abbiamo visto che apprezza i nostri prodotti del lattiero caseario dovremmo come dire avere un grande progetto di filiera che coinvolge non solo i produttori e i consumatori ma per esempio anche la parte intermedia della distribuzione perché credo che la distribuzione attraverso il media appunto di vendita posso giocare un ruolo nel comunicare i valori distintivi dei nostri prodotti tipici prego sicuramente il paradigma è avere un posizionamento ben chiaro cioè ma da parte dei produttori e dei consorsi che tutelano i prodotti avere della sostanza avere una comunicazione chiara efficace il problema che stava sollevando prima Miriam cioè della rete che diventa uno strumento di comunicazione è in realtà una una minaccia terrificante perché intanto scusatemi la banalità ma fa molto più rumore un albero che cade che non una foresta che lentamente cresce quindi lo scandalo la fake news e l'altro grosso problema è che tante volte quando ti trovi di fronte a una notizia strumentalizzata solitamente i consulenti dicono sai che cosa fare non controbattere perché va a finire che tu vai a rilanciare ulteriormente la cosa quindi qui inizia un meccanismo veramente velenoso penso saltando in un altro settore a TripAdvisor cioè su 100 clienti che sono stati bene 10 scrivono su 100 clienti che sono stati male 95 scrivono di conseguenza inizia un meccanismo che poi io la soluzione non ce l'ho però questo fenomeno che è evidente cioè uno osserva quello che accade che la rete diventa uno strumento di informazione paradossalmente più credibile delle marche o delle istituzioni a me pone un'area grigia lì a cui dover dare risposta che non ho relativamente a l'utilità del packaging non mi ricordo prof quale quale professore diceva che il packaging è un venditore muto quindi attraverso ovviamente il packaging hai un'azione di vendita il grande passaggio oggi è che attraverso il packaging è possibile accedere ad altre piattaforme ad altri mondi da quello più semplice il sito internet al QR code a una realtà aumentata quindi oggi noi produttori di formaggi oggi noi consorzi di tutela abbiamo uno strumento pazzesco che è questo ponte cioè il packaging che deve permetterci di entrare in altri mondi e quindi riuscire attraverso il packaging e la piattaforma supermercato che ti permette sostanzialmente questa experience di informare nel modo più corretto possibile non viene meno il problema di qui sopra perché se tutto questo si può fare e si fa ma l'informazione sulla rete viene ritenuta più credibile di quanto non un consorzio non una marca o non un'università dicono capite che il sistema va in cortocircuito posso aggiungere una cosa a proposito dell'informazione sulla rete del passaparola e dell'impatto che questo canale di comunicazione tende ad avere bisogna che le aziende investino sempre di più su questo nuovo media di comunicazione vi citavo la visita che abbiamo fatto in Nestlé noi siamo andati in Nestlé la Nestlé ha una divisione digitale è una stanza grande come questo porticato appesi ai muri ci stanno video grandissimi e sono collegati con tutto il mondo tendono a monitorare tutto quello che si dice in tempo reale sulle marche della Nestlé all'interno della divisione lavorano 10 ragazzi l'età media 25 anni il capo della divisione è una ragazza di 26 anni competenze di altissimo livello e quindi tutto questo significa che dobbiamo anche come dire produrre delle competenze manageriali in grado di gestire questa nuova sfida perché quello ormai è un dato non possiamo farci assolutamente nulla e i giovani hanno un grande spazio una roba difficilissima questa da mettere in atto perché se sono palese rientro immediatamente nell'accusa a volete farci pensare le cose che dite voi e se sei sul rettizio allora entriamo nel caso gli hacker russi che intervengono nella campagna elettorale è una delle robe più più complicate in realtà allora professore venga da noi da noi non vada in Nestlé perché scoprirà delle cose bellissime no è una provocazione sto scherzando anzi come dire osservare ma la divisione digitale non l'avete ancora voi è sempre una cosa utilissima però se venisse da noi scoprirebbe che siamo in 4 e non in 10 l'età media è 32 a portarla su sono io troppo alto aspetti e il monitoraggio in realtà della rete lo facciamo e arriva a tutte le persone di comunicazione e di marketing dicevo prima ogni giorno che Dio manda su terra e non fa un'analisi non riporta semplicemente informazioni relative al consumatore ma riporta il link e fa un'analisi dicendo chi è che parla perché è evidente che se è Pedrochi su Radio 24 è un conto e se è mio fratello che ha 20 anni meno di me che dice che lo yogurt al pistacchio gli fa schifo perché questo è il tema il linguaggio che viene usato è un altro conto è evidente che il peso e la pertinenza devono essere misurati e sono misurati tecnicamente in maniera costante ed è un esercizio molto elaborato che ha dietro degli strumenti di elaborazione molto veloci ecco quindi questa è una cosa da cui oggi non si può prescindere venendo al packaging la provocazione tornando alle fake news ma sapete che dal 2008 dal 2008 gira questa fake news prima sulla rete oggi sui social che dice che per esempio prendendo la bottiglia del latte rigirandola se trovate dei numerini sotto quei numerini indicano il numero di volte che il latte è stato ribollito ma secondo voi è credibile dal 2008 al 2018 che diciamo ragazzi quelli sono i numeri della carta tetrapack che viene delle bobine ok ma dal 2008 gira sta storia ecco per dare la misura di quello che può la rete e da noi non dobbiamo perdere occasione di dire che cosa che cosa è il giusto dare informazioni magari in maniera incrociata lavorando come facciamo per esempio con tetrapack per dire puoi per favore tu riportarlo perché sta ritornando in voga e l'unico modo per fare controinformazione è sponsorizzare l'informazione è l'unico modo perché quando c'è un fenomeno crescente l'unico modo è quello di riuscire a coprire diciamo quel fenomeno con informazioni ovviamente non condizionate questo è un elemento fondamentale cioè se io azienda commissiono qualcosa all'università o alla nutrition foundation l'informazione che esce dall'università o dalla nutrition foundation o dalla non so dalla fondazione veronesi vi dico cose che avvengono realmente deve essere non condizionata cioè deve essere un'informazione che non è in alcun modo condizionata dal finanziamento che viene dalle aziende e oggi questo avviene avviene cioè le università lavorano molto bene cioè gli studi della fondazione veronese lavorano molto bene in questa direzione ed è fondamentale relativamente al packaging delle volte è il packaging a condizionare l'acquisto vi dico l'esperienza di mamma di bimba di otto anni che è lì poverina che mi aspetta ma comunque quando Granarolo ha lanciato Granarolo che possiede anche la marca Iomo anzi ha salvato la Iomo dal fallimento stava andando in mani straniere ha salvato 800 persone che lavoravano a Pastorago di Vernate quando Granarolo ha lanciato Iomino che è uno Iomo piccolo così in un packaging che è un doy pack che permette allo yogurt di durare 4 ore fuori dal frigorifero e ha un tappo antisonfocamento cioè qua chi è mamma Iomino lo conosce lo dico così perché ha fatto una svolta perché voleva dire andare in gita con Iomino in tasca e darlo a un bimbo di due anni e sapere che non si sarebbe ingoiato il tappino perché è talmente grande e ha i forellini da essere antissofocamento e non avere problemi quindi delle volte il packaging faccio l'esempio di Iomino ma cambia il modo di fruire il prodotto rispetto a uno yogurt tradizionale nel quale mi sporco ho bisogno del cucchiaino non mi dura 4 ore se sono a maggio e così via quindi lo studio giusto per dire da noi ci sono 9 persone che studiano solo il packaging solo il packaging valdreghi ecco concludo a lei lì dietro dovrebbe esserci uno tsunami di parmigiano prego il discorso è chiaro il packaging è un elemento assolutamente cruciale per la vendita e per il successo dei prodotti però mi dà l'occasione di tornare su una dei dati che ci ha presentato il professor Fornari cioè il fatto che oggi un terzo dei pasti vengono consumati fuori casa e quindi i prodotti vengono presentati già elaborati sostanzialmente il consumatore e questo vuol dire per una categoria di prodotti piuttosto vasta iniziare dai prodotti a denominazione d'origine quindi grana padano e tutto quello che consegue una presenza all'interno di preparazioni nelle quali scompare completamente l'identificazione del marchio del prodotto e questo qua è veramente un elemento di preoccupazione come sempre i cambiamenti si usa dire sono forieri di difficoltà da un lato e di opportunità dall'altro e quindi bisogna mettere in campo tutte le capacità del caso però certamente questo è un grande ostacolo cioè il fatto che i prodotti vengano usati senza che sia possibile da parte dei consumatori identificarli o verificarli è evidente che anche in questa direzione ci si sta cercando di muovere per fare in modo che ci sia un'evidenza precisa in questo in tutto quello che viene consumato però l'utilizzo e il consumo dei pasti fuori casa dei consumi fuori casa dei pasti veloci degli snack eccetera diventa un altro fronte importante per la confezione per l'identificazione dei prodotti bene abbiamo concluso grazie a tutti e buona degustazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti